Dottoressa Colotta, quando fu realizzata questa cabina Enel? La cabina di Porta San Canogero, che cinge appunto antiche mura della nostra città, è stata realizzata nel 1969. Quindi 54 anni fa? Sì, previa un'autorizzazione, un atto di cessione da parte del Comune ad Enel, avvenuto il 31 gennaio del 1950. Quindi 19 anni prima? 19 anni prima viene ceduto questa fascia di terreno e 19 anni dopo Enel realizza questa cabina. Possiamo dire che se fosse oggi non si darebbe un'autorizzazione? Non si darebbe assolutamente un'autorizzazione per questo posizionamento, perché è un edificio strutturalmente importante, a ridosso di mura proprio antiche, cinquecentesche. C'era una sensibilità diversa? C'era una sensibilità diversa, ma ciò non toglie che le cose possano cambiare nell'arco degli anni. La cabina Enel di San Michele, tornata nei giorni scorsi al centro dell'attenzione, andava messa in sicurezza. Questo non significa che l'amministrazione non voglia trovare un altro sito, ma rimuoverla dall'oggi al domani è impossibile, perché l'impianto serve per alimentare le utenze di una buona parte della zona. Così oggi al nostro telegiornale l'assessora Valeria Gulotta. Quello che sta avvenendo oggi, in questo periodo, è un forte intervento di manutenzione e di messa in sicurezza di quell'aria, perché il 29 giugno, durante una passeggiata quotidiana, mi rendo conto e comunico subito all'ufficio lavori pubblici che dei grossi calcinacci cadevano sulle marciapiede, creando un grosso problema per i cittadini, un grosso pericolo. Subito contattiamo Enel tramite il nostro ufficio e iniziano i lavori di messa in sicurezza. Si tratta di una manutenzione importante, perché essendo un edificio del 69, coinvolgeva sia calcinalci, ma anche i ferri, la struttura di questo edificio. Quindi il lavoro è molto lungo e complesso proprio per questo motivo. Si completerà presumibilmente tra un mesetto, proprio per dar tempo alla posa dei materiali. Ma quello che ci tengo a sottolineare è che il lavoro di messa in sicurezza non pregiudica né lo spostamento della cabina e neanche una rimodulazione del progetto, con un ridimensionamento proprio della struttura. Su questo ci stiamo lavorando da diversi mesi, con interlocuzioni molto proficue con i responsabili della provincia d'agrigento di Enel. I lavori di messa in sicurezza tuttora in corso sulla cabina si sono resi necessari, perché dal manufatto cadevano calcinacci. Questo non impedisce di immaginare un altro sito oppure un suo ridimensionamento. Una cabina di alta tensione alimenta in questa zona tantissime utenze. Spostare una cabina significherebbe spostare il baricentro elettrico del quartiere. E quindi bisogna fare delle opportune valutazioni tecniche se questo non crea dei problemi ai cittadini e un abbassamento della tensione. Questo è il problema relativo all'aspetto tecnico. Diversi sopralluoghi fatti da me personalmente con gli uffici ci portano nella direzione di probabili individuazioni diarie che ovviamente devono essere di proprietà comunali e devono essere cedute ad Enel proprio per la messa in posa di questa nuova cabina. Qualora questo non fosse possibile, si è parlato anche già con Enel di ridimensionare la struttura, di fare una cabina più piccola e che non sia troppo moderna. Per non farla sonare, mi permetto di utilizzare questo termine, con il contesto storico in cui è allocata. Il tema è tornato al centro di polemiche sui social anche dopo l'attacco dell'Associazione Italia Nostra che chiede la rimozione della cabina Enel. Pervenuto al comune una nota da Italia Nostra in cui sollevavano diverse problematiche in merito a questa cosa, anche il merito al pagamento di un solo pubblico, un merito da autorizzazioni. Questo terreno è stato ceduto dal comune ad Enel nel 1950 con un atto ufficiale, quindi non hanno necessità di pagare un solo pubblico essendo di loro proprietà. Dietro a queste note che sono pervenute in questi giorni non ci siamo svegliati a seguito di queste note. Io da 5 o 6 mesi ho interlocuzioni continue con Enel. Bisogna capire la complessità del fenomeno. Spostare una cabina ha problemi tecnici, ha costi elevati. Inoltre siamo in una zona in cui ci sono dei vincoli. La nuova progettazione di una nuova cabina deve passare attraverso il genio civile. Quindi sono ITER che coinvolgono tanti enti e sappiamo benissimo la lentezza che questo possono avere.